Buonasera e bentrovati al programma elettorale di Primo Canale dopo la maratona di ieri notte adesso abbiamo tutti gli eletti in Liguria alla Camera e al Senato. Li vediamo subito prima di presentare i primi ospiti di questa nuova serata in diretta su Primo Canale ecco i nuovi deputati della Liguria eletti tra l'uninominale e il plurinominale questi nomi Edoardo Rixi, Roberto Bagnasco, Luca Pastorino, Ilaria Cavo, Matteo Rosso, Roberto Traversi, Andrea Orlando, Maria Grazia Fria, Valentina Ghio e Francesco Bruzzone. Abbiamo anche i cinque senatori che rappresenteranno la nostra regione nella prossima legislatura eccoli tra uninominale Berrino e Pucciarelli e plurinominale Pirondini, Menia e Basso Con molti di loro parleremo stasera cominciando da Ilaria Cavo, buonasera Buonasera, buonasera a voi Eletta all'uninominale nel centrodestra, l'uninominale numero 2, mentre Roberto Bagnasco, Forza Italia, grazie di essere con noi Grazie a voi Che è stato eletto invece nell'uninominale numero 4, quello del Levante Entrambi alla Camera Ilaria Cavo, i risultati che sono maturati hanno dimostrato inequivocabilmente Ora vediamo anche il cartello che riguarda il suo collegio Che non era una partita semplice Che alla fine ha prevalso il centrodestra nel suo caso Ma certamente con tanto lavoro e tanta opera di convincimento dell'elettorato Ma nessuno ha mai pensato che questa fosse una partita semplice Anzi quando io ho accettato questa candidatura dopo un po' e qualche ora di riflessione Sapevo benissimo che era la candidatura in un collegio difficilissimo Il più difficile della Liguria Lo sapevamo ed era peraltro stato scritto non soltanto sulle testate regionali Ma anche sulle testate nazionali che davano come questo collegio favorito per il centro-sinistra E storicamente questo collegio anche se così con questi esatti confini non era mai stato tracciato Ma insomma la somma dei collegi precedenti Sappiamo che la riduzione dei parlamentari ha portato a tracciare dei collegi più ampi Ma la somma dei collegi precedenti Insomma quello che era il territorio dove siamo andati a correre Non era mai stato vinto dal centrodestra E' sempre stato vinto storicamente o dal centrosinistra o dal Movimento 5 Stelle Era un cosiddetto contendibile ma tutti i sondaggi lo davano colorato di rosa all'inizio Colorato di rosa in termini tecnico voleva dire favorito al centro-sinistra Io ho accettato questa sfida sapendo che appunto non era semplice Ma anche che potevamo giocarcela nel rapporto col territorio Con la concretezza dei progetti, delle cose fatte Insomma e devo dire che questo ha premiato Nessuno si aspettava un esploit e una vittoria di enormi numeri In realtà comunque abbiamo avuto una vittoria importante Perché con il pieno rispetto ovviamente degli altri candidati E soprattutto della candidata per altro donna del centrosinistra Che poi diciamo è la candidata con cui c'è stato da sempre in questo mese il confronto più diretto Comunque il distacco è di oltre 5.000 voti Quindi non è un distacco piccolo Durante la nottata ci sono stati dei momenti in cui peraltro io ero anche indietro Nello scutigno perché quindi diciamo il testa a testa nelle ore c'è stato E questo ha dimostrato che non era assolutamente una corsa semplice Ma io l'ho sempre detto che fino all'ultimo voto dovevamo andare a prendere Io stessa ho fatto una campagna quasi da preferenze Qualcuno me lo diceva ma come stai facendo una campagna Come se fosse la campagna delle preferenze delle regionali Io ho sempre pensato che si dovesse fare così Mettendoci non solo la faccia sui diciamo cartelloni Sugli autobus, sui manifesti Ma proprio la faccia tra la gente, nei mercati In tutte le situazioni dove un po' la riconoscibilità Ma proprio la presenza fisica era necessaria per far passare un messaggio Di vicinanza, di presenza Che ovviamente non è stata nel mese della campagna elettorale Era un ricordare l'esserci stati nei sette anni precedenti E dire ci sarò e sarò Spingere, spingere sulla Ovviamente riferimento del collegio negli anni successivi, nei cinque anni successivi Questo devo dire che è stato credo apprezzato E il risultato è stato questo Peraltro devo dire con dei dati sorprendenti Soprattutto in alcuni comuni Perché se su Genova e i risultati di Genova dimostrano Diciamo il fatto che questo fosse un collegio difficile per il centro-destra Come peraltro è sempre stato Perché parliamo di tutte le delegazioni del Ponente Dove storicamente il centro-destra non ha mai vinto Ha vinto certo alle comunali con una compagine molto civica E diverso ovviamente da quella che ha corso alle elezioni politiche Però abbiamo vinto e anche in maniera importante Su tutti, in molti comuni della provincia di Genova Oltre che chiaramente della provincia di Savona Perché questo era un collegio misto che abbracciava due province In provincia di Savona intendo dire Varazze Intendo dire tutta la parte di Albisola, della Costa Ma anche la parte della Val Borbi, da Cairo Abbiamo avuto ovviamente dei risultati importanti Ma consolidati che si sono straconsolidati rispetto allo storico Ma abbiamo avuto delle sorprese importanti Quando vedo dai risultati che siamo il primo partito Abbiamo vinto a Ceranesi Abbiamo vinto a Campomorone Abbiamo vinto a Arenzano Abbiamo vinto a Serra Ricò E capite che sono ovviamente dei dati importanti Che sono assolutamente delle novità E dimostrano un cambiamento Per quanto riguarda il collegio invece di Levante Dove si trova, e si trovava perché adesso si trova la Camera Quindi è finita questa competizione Roberto Bagnasco Beh, quello era un collegio È un collegio dalle due facce Perché la parte del Tigullio è una parte che vi è tradizionalmente più amica È un collegio bianco Come si diceva una volta nella Prima Repubblica Nella Prima Repubblica però invece quello della Spezia Sarebbe stato considerato come un collegio rosso E invece alla fine ha prevalso in maniera nettissima Se noi riguardiamo i dati Centrodestra nel collegio numero 4 Fa un po' meno diciamo di quello che fa il collegio dell'estremo ponente Però lì è una questione quasi feudale Quello è sempre stato il migliore dei collegi della Liguria Anche un po' diverso rispetto a quelli nel centro del Levante Però insomma Non lo so Adesso chiederemo poi magari a Valentina Ghio Che si collegherà con noi più tardi Se può darsi che il candidato Daniele Montebello Io sono spezzino ma non l'avevo mai sentito nominare Perché è il sindaco di un piccolo comune Castelluomo Magra Molto rosso dove peraltro pare che si sia imposto il centrodestra Sì abbiamo vinto lì la grande soddisfazione Se vogliamo il distacco è enorme Lì addirittura fanno meglio forse gli altri I minori che alla fine un po' prendono Prende un 7-4 il terzo polo E poi altri che arrivano intorno al 2,5-1% Bagnasco come è stata questa campagna? Ma per me è stata una campagna condotta in maniera tranquilla Conoscevo il vantaggio forte E che conoscevo due terze del territorio molto bene Devo dire quindi con poche difficoltà di inserimento Perché sono realtà che vivo da molti e molti anni Le vivo quotidianamente e nell'attività politica E se mi consentite anche nell'attività estrapolitica Quindi problematiche non ce ne sono state assolutamente Le conoscenze c'erano In qualche caso addirittura è bastata una telefonata Con un sindaco piuttosto che con un altro Con un commerciante di una piccola realtà Che evidentemente conoscevo per esperienza diretta Ho puntato di più sulla zona della Spezia Questo sì L'ho frequentata molto in questo mese Ma per mia fortuna avevo avuto già occasione Per le campagne precedenti su Spezia Di fare questo tipo di impegno diretto E ho lavorato su queste zone con buoni risultati In Spezia, Sarzana anche Sono molto soddisfatto del risultato di Sarzana Sia del centro-destra sia di Forza Italia In particolare a Sarzana Lo stesso è successo alla Spezia E poi anche nelle varie valli In Val di Vara devo dire abbiamo ottenuto Andate a vedere dei risultati molto molto importanti Forse perché avevo la fortuna, questo sì Di avere nella mia lista Delle persone particolarmente inserite in queste realtà Tipo l'ex presidente della provincia Il consigliere comunale Amici che mi hanno aiutato molto Quindi devo dire Grosse difficoltà non ne ho mai avute Ma non è sbrufoneria Ci mancherebbe altro Però in tanti anni di campagna elettorale Devo dire che ho avuto occasione Di avere impegni più gravosi Questo non vuol dire che l'impegno da parte mia Sia stato, ecco questo sì, totale, assoluto Come Lilaria prima parlava di battaglia per le preferenze Io dove ho potuto andare Ho fatto un discorso proprio anch'io Di battaglia per le preferenze Ho cercato in qualche modo di recuperare tutto il possibile Fa parte anche un pochino del mio carattere Quindi non sono riuscito Qualcuno mi diceva ma cosa fai? Me lo diceva vai di qua vai di là Io ho girato soprattutto come dico Nelle realtà più lontane Perché quelle più vicine non ce n'era assolutamente bisogno L'ho fatto tutti i giorni, non so quanti migliaia di chilometri Ho fatto anch'io Poi io trovo bellissimo l'Unionominale Sarà che sono anglofilo Quindi ho questa passione Ma l'Unionominale è vero che io non posso scegliere Nel mio collegio Io ero nel suo collegio E lo possiamo rivedere Potevo scegliere tra Roberto Bagnasco Tra Montebello La Silvia Garibaldi E questi altri nomi di candidati Non potevo sceglierli Però non è che vada a scegliere il nome del sindaco Anche a Genova potevamo scegliere tra Bucci dell'Ostrologo E qualche altro Questa è la realtà Voi qui andate a rappresentare un territorio Io scelgo Voglio che Bagnasco mi rappresenti E diventi il mio rappresentante a Roma Ilaria Cavo è la mia Se abito nel Genova Ponente Candidata a Roma Se posso permettermi Ecco c'era la soddisfazione Questo sì Forte Profonda Sincera Di essere candidato nel mio collegio Come era l'altra volta Io mi sentivo proprio Nel mio collegio Quando oggi giravo Ovviamente nella realtà di Rapallo e Santa Margherita La gente mi fermava E non è che mi piacesse farmi vedere più di tanto Ma era proprio la realtà del rapporto diretto che c'è E che con un candidato uninominale Non può non esserci Purtroppo adesso sono collegi un pochino più grandi E si fa un po' più fatica Nel senso Ha dovuto sconfinare A essere presente Anche Ilaria Cavo Andando un po' nel Savonese Ho già chiesto Oggi Adesso mi sono organizzato con la mia segreteria Lo farò come l'avevo fatto precedentemente Per la realtà del Tigulio Lo farò anche per quanto riguarda la Valdivara Spezia e tutto Prenderò rapporti diretti L'ho già presi Li confermerò con i sindaci Con gli amministratori Di destra Di sinistra Di centro In modo che Se ne avranno voglia Evidentemente Se riterranno Perché se ci sono delle istanze Che possa essere utile Loro mi possono chiamare Esatto Se mi chiamano Io cerco di fare quello che posso Se riesco Se non mi chiamano Evidentemente La responsabilità passa all'ala Cioè passa a loro Certo Non c'è dubbio Ilaria Cavo Anche lei ha dovuto un po' sconfinare Poi nel suo caso È un po' un discorso che non vale Perché lei è un assessore regionale uscente Quindi ha lavorato Per tutta la regione E immagino che nel suo ruolo Molte volte si è trovato Andare fuori dalla provincia di Genova E quindi ci mancherebbe altro Però in questo caso È ovvio che ognuno di noi Nasce in un luogo Ha delle relazioni Su un certo territorio Questi collegi Hanno rappresentato Una sfida nuova Sì diciamo che io Ho sconfinato Rispetto al mio collegio Di vocazione Rispetto alla campagna Delle regionali Perché io le regionali Le ho fatte tutte Sulla provincia di Genova Che in realtà Conincideva con tutto Il comune di Genova Più tutta la provincia Quindi andava Se mai nel Tiguglio E quindi chiaramente Ero più orientata Su questo bacino Mentre questa campagna L'ho fatta Su metà Genova Quindi da Cornigliano Sostanzialmente Fino a Voltri E tutta la Val Polcevera Per quanto riguarda Il comune di Genova E poi Arrivava fino al Bisola E poi con la Valle Stura La Valle Scrivia La Val Polcevera E una parte importante Della Val Bormida E tutta la zona di Urbe Quindi chiaramente Un collegio davvero Variegato E con due province Per cui sì La provincia di Genova E la provincia di Savona Chiaramente Il fatto di avere Per sette anni Fatto l'assessore regionale Non mi ha fatto arrivare Da estranea Perché io mi sono sentita Una persona del territorio E tale Sono stata recepita Da tutti E la cosa bella Di questa campagna elettorale È stato arrivare Delle volte In alcuni posti Per esempio Faccio un esempio Perché mi aveva colpito Io sono arrivata A Varazze Da un'associazione sportiva A visitare Un campo Dove mi avevano organizzato Un picco Un'accoglienza E poi Il presidente dell'associazione Mi diceva Ma te lo ricordi È vero Che quel campo Siamo riusciti a farlo Grazie al meccanismo Di fondi Rotativi Alle garanzie Che tu hai permesso Quando ancora facevo L'assessore allo sport Nel precedente mandato Io nel frattempo Erano passati anni E mi ero completamente Dimenticata E invece Era una qualche cosa Su cui io avevo Assolutamente inciso Ed era stata determinante E l'aria cam ha risposto Io non me lo ricordo Ma ricordatelo tu però E a quel punto ovviamente È stato imparato No ma questo per dire Che poi andando sul territorio Si ritrovano Gli esiti Risultati Delle cose fatte Ci troviamo un istante Ed è molto bello E credo che Si sia vissuto il fatto Di non essere Assolutamente Una persona Non del territorio Ma sono stata vissuta Come una persona Della regione E quindi anche Di due province Chiaramente il fatto Di avere anche Dei nostri amministratori Che il territorio Lo conoscono molto bene Penso Ad Alessandro Bozzano Nella zona Chiaramente Di Varazze Di Albissola Che è stato Molto presente Oppure Angelo Vaccarezza Per tutta la parte Dell'altra parte Del Savonese Di Cairo Montenotte Chiaramente Il gioco di squadra Li ha funzionato Allora Vi devo fermare Per qualche secondo Per la pubblicità Poi tra poco Torniamo Vi faccio sentire Alcune parole Di Edoardo Rixi Poi faremo anche Delle valutazioni Su che cosa succede In regione Perché l'area a cavo Adesso se ne va Dalla regione Quindi qualcuno Dovrà sostituirla Vediamo anche Cosa pensano Gli alleati Sulle sostituzioni E poi Tra non molto Ci collegheremo Con il direttore Del secolo XIX Luca Obaldeschi Che ci aiuterà Nell'analizzare Il voto In Liguria In Italia Tra poco Programme elettorale Di Primo Canale Ancora buonasera Le parole di Edoardo Rixi Ci introducono Al tema Del rimpasto Della giunta Oggi Rixi In conferenza stampa Ha chiesto Un assessore Alla sanità I prossimi giorni Inizieranno Gli incontri Con gli alleati Di centrodestra Per andare a indicare Le priorità Già del primo Consiglio dei ministri Indicare Quelle che saranno Sostanzialmente Gli obiettivi Che andremo A portare avanti Nel prossimo governo Dove riteniamo Che a livello Di Liguria Si possano Fare moltissime cose Sapete che noi abbiamo Un po' il pallino Sulle infrastrutture Però Anche su tutta Una serie di altri temi Ripeto La cosa principale È arrivare Il prima possibile Ad avere un governo E quindi A poter Avere un esecutivo In grado di affrontare Il tema Dei rincari Delle energie Delle materie prime Per dare una risposta Alle imprese Che se no Rischiano di chiudere Nei prossimi mesi Però abbiamo tenuto Anche ottimi risultati Ci sono anche comuni Dove abbiamo superato Il 50% In provincia D'Imperia Credo che uno dei problemi Che abbia Regione Liguria Sia sulla sanità Mi auguro Che questa occasione Serva per prendere Un assessore Sulla sanità Che noi Ci va benissimo Se tecnico Però abbiamo necessità In questa regione Soprattutto per i problemi Che abbiamo Nella situazione post-Covid E anche con il tema Di difficoltà Di dialogo Nei confronti Del Ministero della Salute A Roma E soprattutto Sul numero Di medici E di infermieri Di avere una situazione Che sia controllata H24 Di stamattina Ho sentito anche Il Presidente della Regione Ne abbiamo discusso Ci incontreremo Nei prossimi giorni Ma penso che Tutte le forze politiche Di centro-destra In questo momento Vogliano rafforzare La giunta regionale E trovare il modo Di andare A risolvere Quelli che sono Problemi territoriali Che in questi mesi Non sono stati risolti Questo dice Edoardo Rixi Bagnasco Chiede dunque Un assessore alla sanità Poi nel discorso più generale Ha detto Lo chiediamo Da un anno e mezzo Quindi insomma È tanto Che Rixi Batte su questo punto Non ha l'esclusiva Noi comunque Anche se Rixi Non ha l'esclusiva Del battere Su questo punto Credo che sia stato Anche il momento Di una forte frizione Nei confronti Di Forza Italia Che è rimasta Completamente Al di fuori Nonostante Il discreto Ora molto migliore Risultato elettorale Delle Ma lo vorreste per voi Un assessore alla sanità No Non partecipiamo A questo tipo di Scusate Anche se evidentemente Ci interessa il problema Perché il problema Della sanità È fondamentale In una regione Quindi non è che Facciamo gli spettatori Non interessati Però Non abbiamo rivendicato Nessun tipo di Assessore alla sanità O esperto Da noi Indicato Questo perché Ci sembra che A questo punto Della legislatura Dico la verità Entrare in corsa Non ci interessa Più di tanto Noi partecipiamo Diamo il nostro contributo Mancano ancora tre anni Lo so Ma So cosa vuol dire Lavorare Su settori così delicati Come la sanità I tre anni Passano come In un battibaleno Bisogna lavorare Molto intensamente Per organizzare Per fare E si rischia anche Evidentemente Di prendersi colpe Che non si hanno Noi ci siamo Siamo leali Ovviamente Parteciperemo Oggi come ieri A questa giunta Con la massima Sincerità di intenti Questo sì Sinceramente Perché fa parte Della nostra storia Della nostra cultura Poi se il presidente Della regione Avrà intenzione Questo lo dico forte E chiaro In modo che si capisca Ma senza Nessun tipo di ricatto Anche così Nascosto Riterrà in qualche modo Di sfruttare meglio Le potenzialità Di Forza Italia Che sicuramente Ci sono per tanti motivi Io credo che farei Faremmo un vantaggio Alla regione Ma anche al presidente Perché ne sono convinto Di questo Peraltro Giovanni Totti L'aria cavo Ha sempre detto Ma era un accordo iniziale Quello di tenere La delega alla sanità Per una questione Legata alla pandemia E all'importanza Anche nel bilancio Della regione Del comparto sanità Oggettivamente Se andiamo a vedere bene Non è che gli faccia bene Dal punto di vista Dell'immagine Perché è la partita È la patata bollente Per eccellenza Quindi forse anche a lui Potrebbe convenire E lasciarla a qualcun'altra La tenuta È durante tutta L'emergenza Del covid Assumendosi Una grande responsabilità A tenere la delega Della sanità Che mi sembra di capire Tutti dicano Ci vuole un assessore Però anche un tecnico Non mi sembra Che ci sia In maniera netta Un partito Che dica Ci assumiamo La responsabilità O comunque Cioè non c'è ancora Una definizione Di quale sia Diciamo La forza politica In questo momento Che Si assuma La sanità Nella piena Mi sembra Disponibilità Del presidente Totti È un ragionamento Che anche oggi Ha ribadito Mi sembra Nella sua conferenza stampa È un tema Che ovviamente Fa parte Del dialogo Che il presidente Avrà con gli alleati Quindi Aspetto assolutamente Al presidente Nel dialogo Più che costruttivo Che anche oggi Ha Mancherà Non è un tema Che riguarda Assolutamente La sottoscritta Che ovviamente Per la coalizione In maniera più che costruttiva Ha rappresentato Un collegio E che Ovviamente Ha ascoltato Le parole Molto chiare Del presidente Oggi In una conferenza stampa È chiaro Ho sentito anche Riparlare Di una possibilità Di un tecnico Si vedrà Se chiaramente Ricadrà Su una figura politica Su una figura tecnica Quello che io Deduco Ma così Per un puro Ragionamento logico Che nel momento In cui Si farà una scelta A questo punto Ovviamente collegiale Tra gli alleati Sul tema Della sanità Poi A cascata Andranno a Concatenarsi Tutte le altre Deleghe C'è la sua Io voglio sapere Della sua Mi faccio l'identikit Del nuovo assessore Che dovrà sostituirla Lei lo so che Nel nome non me lo fa Perché è troppo signora Però Almeno mi dica Cosa serve Non solo non lo faccio Ma non mi sono neanche Permessa di chiederlo Perché Credo che Non sarebbe Neanche corretto Io Ho accettato Una candidatura E quello Che avrebbe comportato E che quindi A questo punto Comporterà Senza ovviamente Chiedere Chi sarebbe arrivato Dopo di me Chi verrà Semplicemente Mi metterò a disposizione Se chiunque sarà Passaggio di consegne Avrà bisogno E farà piacere Un passaggio di consegne Credo di aver impostato Bene il lavoro Questo sì Nel senso Come programmazione Di fondi europei E anche questa è una scelta Tanto lavoro Credo che Sarò a disposizione Se qualcuno Vorrà Chi sono Magnaasco I liguri Che possono aspirare Ad entrare nel governo Perché poi c'è anche Questa partita Che è fondamentale Io credo che Per aspirare A entrare nel governo Ci vogliono persone valide Ma questo Ci sono sicuramente Se mi posso permettere Con un minimo di esperienze Evidentemente Perché I meccanismi governativi Sono abbastanza difficili Insomma E' giusto Anche possibilmente Non dover impiegare Troppo tempo Per inserirsi Come in tutte le cose Del resto Ma non ci sono Problematiche Di scelte Io credo che Gli eletti Mi sono guardati oggi Li vedevo prima Sono tutte persone Ottimo livello Per quanto mi riguarda Quindi Non ci sono problematiche Quello che invece Spero Che ci sia veramente Posto nel governo Per la Liguria Perché noi ci siamo accorti Sempre Che quando C'è qualche uno Dei nostri Evidentemente C'è maggiore attenzione Non solo Nel settore Di qui sopra Cioè di cui C'è il nostro rappresentante Ma anche A livello governativo Perché E' chiaro che All'interno del governo Poi si riesce A parlare Agli uni Piuttosto Un nostro Punto di riferimento Di questa campagna Natale nazionale La rita della chiesa Quindi abbiamo chiesto Tra l'altro Ha chiesto Il coordinatore Ragionale Di averla Naturalmente in piena Sintonia Con l'onorevole Cassinelli Perché tanto sarebbe Entrato Cassinelli Qualora Fosse scattato Il voto Come voleva Si dimostrare La chiesa Ha vinto Suoni nominale Quindi Poi ci sono C'era la Sandra Zampa Che però non è entrata Nel collegio Di ponente E poi Invece Uno si è entrato Il capo gruppo Il capolista Al senato Di fratelli d'italia Che non è Ligure Ed è l'unico Su 15 A non essere Ligure Gli altri Li abbiamo visti Sono tutti Liguri Guardiamo quelli Di centrodestra Perché poi sono loro Che potrebbero aspirare A un posto Al governo Rixi Oggi Toti L'ha detto C'è stato un bravissimo Sottosegretario De trasporti Non ho citato il nome Ma non ci voleva un mago Per capire Di chi parlasse Che potrebbe essere Un buon ministro C'è Roberto Bagnasco C'è Ilaria Cavo C'è Matteo Rosso C'è Maria Grazia Fria E Francesco Bruzzone Questo per quanto riguarda I deputati Mentre i senatori Sono Pucciarelli E Berrino La Pucciarelli Con l'esperienza Di governo Di sottosegretario Per completezza Ovviamente ci sono Anche altre personalità Che hanno avuto Un ruolo di governo Come per esempio Traversi Ma non hanno speranza Perché non è il governo Loro Quindi diciamo Che Non è proprio Quella A cui tendiamo Non è quella La tipologia Indubbiamente Che potrebbe essere La vostra Ci fermiamo ancora un istante Un brevissimo intervallo Ci raggiunge tra poco Via Skype Valentina Ghio Partito Democratico Allora cominciamo a aprire Anche un po' Le questioni legate Al centro-sinistra Da tra poco Programma elettorale Di Primo Canale Dovrebbe essere pronta Con noi Valentina Ghio Segretario regionale Del Partito Democratico Buonasera E congratulazioni Per la sua elezione Alla Camera dei Deputati Grazie Buonasera a voi Non è stata una passeggiata Però Ghio Glielo dico Io la davo blindata Invece sbagliavo Perché alla fine Il PD ha Un po' Sottoperformato Rispetto alle attese Come mai? Ma in realtà Non è stata una passeggiata Perché questo sistema Dei resti È veramente complesso Anche proprio Nella comprensione Visto che riguarda Poi tutta una serie Di collegamenti Con altre regioni Con altre forze politiche Io devo dire Che invece Penso che In una sconfitta Molto netta A livello nazionale Che assolutamente Non va sottaciuta Né mitigata E anzi Deve essere occasione Per riprendere In modo saldo Il lavoro Sul Partito Democratico Credo che invece La situazione Ligure Sia una situazione Eh di tenuta Una situazione Dove Il Partito Democratico Ligure È Oltre tre punti Sopra il dato Nazionale E dove In particolare Il dato Di Genova E del Levante Ligure È un dato Ancora In 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 crescita ulteriore Ecco Quindi con punte Di 26 punti percentuali A Genova Credo anche Che Il fatto Di Aver Insomma Fatto sì Che ci siano Quattro parlamentari Liguri Del Partito Democratico O nell'ambito Del Partito Democratico Incluso anche La vittoria Del collegio Uninominale Non fosse così Scontata Quindi mi sembra Per la Liguria Una situazione Invece Soddisfacente Nell'ambito Ripeto Di una situazione Nazionale Che invece È di netta Sconfitta Perché Perché però Il PD Di fatto Ora non è ancora successo Ma si capisce Che sta succedendo Fa fuori il suo leader A ogni elezione In cui non va Esattamente come deve andare Altri partiti Non fanno la stessa cosa Ora io Lei mi risponderà Quindi la Come dire Già L'anticipo Noi siamo un partito Strutturato Un partito Con una sua democrazia interna E quindi ci può stare Però insomma Alla fine È evidente Che la responsabilità Non può essere Sempre del capo C'è qualcosa Che va cambiato All'interno del PD In linea generale È vero In Liguria Fa bene Ma è anche vero Che la Liguria È un'area geografica Dove il centro-sinistra Storicamente Ha sempre fatto bene Quindi ci vuole qualcosa Di nuovo Ma non nel leader Ma proprio nel sistema O no? Sicuramente Credo che Il segretario Enrico Letta Abbia Fatto bene Ad assumersi La responsabilità E a delineare Un percorso In cui ha definito Un congresso E ha definito Che non sarà lui Fra i candidati Dico che abbia fatto bene Ad assumersi La responsabilità Perché personalmente Credo che Chi ricopre Un ruolo di vertice Si debba assumere La responsabilità Quando le cose vanno bene E quando le cose Non vanno bene Detto questo È vero Quello che lei dice C'è la tendenza Del Partito Democratico A bruciare Il leader A insomma A farli Cambiare In tempi In tempi rapidi Anche diciamo Molto più rapidi Talvolta Di quello che sarebbe Necessario Credo fortemente Di questo ne sono convinta L'ho detto oggi In diverse altre occasioni Anche insomma Dai primi confronti Interni Credo che Se però Il Partito Democratico Pensi che sia soltanto Una questione Di cambiare cavallo Non abbia compreso La profondità Della riflessione Che ci compete Questo è uno Degli aspetti Ma credo che sia Molto importante Aprire un confronto Sui temi E non aver paura Dello scontro Sui temi Noi non dobbiamo Smetterla di scontrarci Sui tatticismi Sui posizionamenti Ma invece Arrivare a definire Che tipo di partito Vogliamo essere Chi vogliamo rappresentare Come definire I temi fondanti Del nostro partito Della nostra politica E quelli necessari Per il futuro Del nostro paese Credo che debbano essere Un oggetto Di una discussione Franca E senza sconti Valentina Ghio Un'ultima domanda Katia Picardo Due ore fa Ha affidato ai social Questo pensiero Forse di certi errori Ci si poteva accorgere Anche prima Di mandare Donne e uomini Al macero E non soltanto Un attimo dopo Mi taccio Con chi ce l'ha Katia Piccardo? Non so Non voglio interpretare Il pensiero di Katia E penso che sia Giusto Anche poi discutere Condividere Insieme a Katia E quello che mi sento Di dire a Katia Oggi È quello di Ringraziarla E farle i miei complimenti Per il grande impegno La grande determinazione E anche la capacità Di recuperare Diversi punti In una situazione Che non era Affatto facile Quindi credo che a Katia Vada solo il nostro Grazie E anche i nostri Complimenti Per la capacità Che ha avuto Di reggere Quel collegio E di portare Tanti voti Alla sua candidatura Grazie Valentina Ghio Segretaria del Partito Democratico E nuovo deputato Mi raccomando Si ricordi le promesse Che ci ha fatto Di fare Diciamo così Combutta Anche con gli altri Per aiutare la Liguria Noi abbiamo assolutamente Bisogno Trasversalmente Grazie mille Grazie a voi Buonasera Chi è che mi vuole rispondere Sul perché non avete fatto L'unplane Sui collegi uninominali Facciamo dire a Bagnasco Che ha più esperienza Ma no Ha più esperienza Ma in questo caso Non è in grado Di dare una risposta Prima di tutto Perché non conosco Profondamente Quelle realtà E quindi Mi sembra difficile Darla E poi perché Io credo Che non mi sembra Molto Mi sembrerebbe Anche molto simpatico Nei confronti Di un nostro amico E collega Da tanti anni Come l'onorevole Senatore Biasotti Fare in questo momento In qualche modo Mettere in discussione La sua candidatura Senza elementi Di nessun genere Che in qualche modo Vadano in questo senso Quindi proprio Non mi piace Non lo faccio E non ci penso Neanche a farlo Biasotti Credo che avesse Tutte le caratteristiche Per essere Un ottimo candidato Del centro-destra È chiaro che poi Evidentemente Le cose sono andate In un certo modo Devo dire Onore al merito Questo lo dico Chiaramente Pur essendo Dall'altra parte L'interlocutore Di Biasotti Era un parlamentare Di grande esperienza Con grandi capacità Anche comunicative E dotato anche Di grande volontà E di grande impegno E quindi Questo sicuramente Ha influito In un risultato Che come diceva prima Ilaria era già All'inizio Non dico Deciso Da una parte O dall'altra Ma comunque Sicuramente Contendibile Come diciamo noi Quindi Quando sono contendibili Si contendono Una volta Si vince E la riacavo Purtroppo si perde Chiaramente Non è un ragionamento Da fare Sulle persone Chiaramente È probabilmente Un'analisi Perché Questo è giusto E in questo caso Non parlo assolutamente Da chi ha vinto Il collegio A fianco Erano due collegi Entrambi Contendibili Quindi Ma Da persona Che comunque Rappresenta Il partito Di noi Moderati Quindi Alle domande È giusto Rispondere Che vengono Fatte Io credo Che la riflessione Da fare Sia sulle Dinamiche Del collegio E su come Soprattutto la parte Della borghesia Cittadina Abbia votato Perché quello È un collegio Quello del centro Levante Dove ha pesato Molto il voto Della borghesia Genovese Che evidentemente Non c'era 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 molto meno Nel collegio Di Genova Ponente Che aveva altre Difficoltà Tutta un'altra storia E altre Diciamo Esigenze Altre Da intercettare Invece Quello di Genova Aveva tutto il tema Sicuramente Di un voto Di elettorato Di una fetta Di elettorato Che evidentemente Si è orientata Di più Sul terzo polo Che ha Raccolto In quel caso Una fascia Di elettori Più elevata Rispetto Evidentemente Alla dinamica Che invece Si è rivelata Nel Genova Ponente Che ha avuto Tutta un'altra dinamica Di voto Ecco Questo Mi sento di dire E chiaramente Su questo Dobbiamo riflettere Non facendo Una riflessione Sui candidati E sulle persone Ma sulla dinamica Di voto E su quel tipo Di elettorato Faccio una domanda A Roberto Bagnasco Secondo lei L'aria Cavo Sarebbe adatta Per magari Un posto Sottosegretario Non dico Un ministero Perché è difficile Per il tipo Diciamo Di risultato elettorale Fatto dal suo Partito Però Un sottosegretariato Per lei Potrebbe essere Un'idea L'aria Cavo In grado di fare Sottosegretario Benissimo Non devo dare Certo io La patente A l'aria Cavo Per fare Sottosegretario Dal punto di vista Strettamente Politico Io penso Che poi ci saranno Degli equilibri Importanti E quindi Questi equilibri Evidentemente Dovranno Essere rispettati Per tutti Questo Giorgia Meloni È il premier Per forza Perché Non è mica Stato così Tanto chiaro Nel corso Di tutta La campagna Elettorale Nessuno Forza Italia Ha detto Sì sì No ma L'abbiamo L'abbiamo Detto in maniera No io Ancora Ieri Domenica Martina Mani pur non dicendere In maniera esplicita Ha detto di fatto Che è la candidata E sarà Il nostro premier E io ritengo anche Mi sento di poterlo fare Tranquillamente In questo momento Quindi senza Incorrere nelle Reprimende Dei capi O dei dirigenti nostri È la nostra candidata Ha meritato Di essere La nostra candidata E mi auguro Che sarà Una candidata Ottima Sicuramente Per le conoscenze Che ho Della Della Onorevole Melloni Che è venuta Tante volte A Rapallo Che ha frequentato Molto spesso Anche Ottimi rapporti Con mio figlio Una persona Che io ritengo Molto più Equilibrata Molto più Attenta Molto più Precisa Di quanto Forse Qualche d'uno Pensa Io credo Che farà Il premier Con delle caratteristiche Molto Molto Importanti E che Difficilmente Incorrerà In errori Marchiani Perché le cose Le fa Ma le fa Dopo averle Pensate A lungo E bene Io ne sono Convinto E lo spero Veramente Per la coalizione Di centro-destra Ma soprattutto Per l'Italia Da donna Ilaria Cavo Il fatto che La prima Primo ministro Donna Sia una Esponente Della destra Diciamo Più radicale L'estrema destra No Perché in Italia Ci sono altre destre Molto più estreme Che sono extra parlamentari Però è oggettivamente Il partito più a destra Che c'è nel Parlamento È una curiosità Se non altro Giornalisticamente Si sarebbe interessata Molto da questa cosa Sì Giornalisticamente Sì Però adesso Devo andare a fare Il parlamentare Andare a studiare Andare alle commissioni Che mi verranno assegnate E fare Per la maggioranza Tra l'altro Essendo molto meno Dovremmo lavorare Molto di più Essendo molto meno Dovremmo lavorare Molto di più La domanda L'ha fatta il direttore Quindi era giusto Che rispondesse Bagnasco Io farò quello Che sarò chiamato a fare Quindi con grande Con grande diligenza Con la quotidianità Con il lavoro Che credo Sarà tanto Perché bisognerà Studiare davvero Ogni pratica Ogni Ogni legge Ogni proposta Capire bene Gli emendamenti Da fare Nell'interesse Della nostra regione Non sarà Un lavoro semplice Anche perché Saremo meno Eh già E la nostra Liguria Tanti progetti Da portare avanti Da difendere Penso che Sarà molto Molto interessante Chiaramente Il segnale Di una donna Importante Sarà importante Lavorare molto Anche per le donne E i segnali Che sono arrivati Dalla nostra regione Lo dicevo Eh Un'intervista Che mi hanno fatto Recentemente Sono segnali Importantissimi Non trascuriamo Anche La necessità Che abbiamo Di difendere le donne Le esigenze delle donne La conciliazione Vita lavoro Insomma Sono tematiche Di cui mi auguro Dopo essermene occupata Qua operativamente In maniera amministrativa Spero di potermene occupare In qualche modo No Anche a livello nazionale Molto bene Bocca al lupo Naturalmente Per il lavoro Che vi aspetta Grazie Crepio e viva al lupo Abbiamo tanti lupi Adesso Abbiamo un sacco di lupi Sì Nelle nostre colline Cominciamo a averne parecchi Sì Beh questo è positivo Non lupi Maurizio Beh io Io sì Io certo Come riferimento È importante Quindi Va bene Ci fermiamo un istante Tra poco ci colleghiamo Con il direttore Del secolo XIX Luca Ubaldeschi E con noi proviamo Ad analizzare il voto A 360 gradi A tra poco Eccoci di nuovo In diretta Buonasera Il direttore del secolo XIX Luca Ubaldeschi Grazie di essere con noi Direttore Grazie a voi Per l'invito Saluto a tutti i telespettatori L'Italia è svoltata a destra Questo lo dicono Tutti gli analisti È un risultato Così sorprendente Direttore Ma sorprendente Assolutamente no Perché diciamo Che tutti i sondaggi Anche quelli Dei giorni precedenti al voto Che si guardavano Ma non si potevano pubblicare Andavano in quella direzione Però storico sì Assolutamente Perché Come avete detto Anche poc'anzi voi Proietta Per la prima volta Una donna Alla presidenza del Consiglio Lo fa con una forza Che è Insomma Di destra a destra Quindi Ci consegna Probabilmente il governo Più a destra Della storia repubblicana E dimostra Che la maggioranza Degli italiani Che sono andati al voto Considerano in qualche modo Chiuso Il conto Col passato Con la discendenza Da una forza Figlia della seconda guerra mondiale Con i fantasmi Del fascismo Che sono stati ripetutamente agitati In qualche modo Come se facessero Una Una saldatura Che Insomma Ripristinando una linea di continuità Quindi da questo punto di vista Ci sono tanti aspetti Perché la giornata di oggi Sia considerata storica Anche in Liguria Visto che Fratelli d'Italia Per la prima volta Raggiunge Prende lo scettro Di primo partito Anche su questo territorio È davvero un risultato Incredibile Il governo Draghi Però li ha fatti secchi tutti Direttore Perché A parte il Movimento 5 Stelle Che ha recuperato Probabilmente proprio Per aver staccato la spina A questo governo Per il resto Tutti i partiti Che vi hanno partecipato Hanno perso Enormemente consensi Perché è successo? Ma allora Io credo che Ancora una volta Si sia Ripetuta E manifestata Questa Diciamo Chiamiamola Eccezione Italiana Per cui Chi Non semplicemente Fa opposizione Al governo Che è in carica Ma Si pone In totale Antagonismo Con chi È Al governo Con chi Ottiene Le leve del potere In qualche modo Viene premiato Cioè Non è qualcosa di diverso Dall'alternanza Dalla sana alternanza Tra forze politiche Di orientamento Diverso Che contraddistingue La vita Di una democrazia Se ci pensiamo Più o meno A partire Da una decina D'anni Con Renzi Che Conquistò Il governo E il partito Democratico Al grido Della rottamazione Poi arrivarono Gli exploit Della Lega Dei 5 Stelle Tutti si sono posti Non come semplice Alternativa A chi c'era Ma con l'obiettivo Di un totale Rivaltamento Della scena Questo gli italiani Non hanno premiato Io credo Che significhi Che c'è un sentimento Profondo Di malcontento Quasi di rabbia Nella società italiana Che chi è al governo Avrebbe il dovere Di in qualche modo Capire di più E provare a sanare Cosa che non è stata fatta Perché anche adesso Il voto A Fratelli d'Italia Va in questa direzione Giorgia Meloni A cui va riconosciuto Il merito Di aver preso Una forza Da percentuali Significanti A raggiungere Il gradimento Di almeno Un quarto Uno su quattro Degli elettori Ecco Giorgia Meloni Si è caratterizzata Per questo Una costante E solitaria Spesso Opposizione Ai governi Che si sono succeduti In questi anni Sempre all'opposizione Spesso da sola Spesso promettendo Sempre Un rovesciamento Di fronte E ancora una volta Questo Ha premiato Però C'è un però Veramente grande Perché adesso Passiamo dalla fase Della lotta Che in qualche modo È anche più facile A quello della costruzione Di costruire Un progetto Di futuro Per il nostro paese Trovandoti Al governo Cosa che rappresenta Un debutto Assoluto Non soltanto Come prima donna Ma perché Giorgia Meloni A parte un'esperienza Al ministero Della gioventù Non ha avuto Fino adesso Delle grandi Esperienze De amministratrice E trovarsi a guidare Un paese Che si trova Ad affrontare Un'inflazione Alta Come mai Nell'ultimo decennio Una situazione Di rincaro Dell'energia Che come sappiamo Sta soffocando Ampie fette Del nostro tessuto Economico Una crisi Internazionale Alle porte Dell'Europa Che porta con sé Una riflessione Seria Sulla collocazione Del nostro paese Nel contesto Europeo E dell'intero Occidente Insomma Mi sembra Che sia Più che giustificata La stessa espressione Usata Dalla Meloni Qualche tempo fa Beh è un incarico Che fa tre vari polsi Non c'è dubbio Un'ultimissima domanda Direttore C'è un tema Tutto locale Che io oggettivamente Non avevo previsto In questi termini Non so Se tu l'avevi previsto Così E cioè Il risultato Di noi moderati Perché un conto E non raggiungere Il 3% in Italia Questo era Abbastanza scontato O quantomeno prevedibile Ma il 2% in Liguria La lista che fa capo A Giovanni Totti Sembra qualcosa Di incredibile Che cosa è successo Qual è il cortocircuito Il cortocircuito Credo che sia Di due tipi Da una parte Abbiamo visto Anche la storia Del nostro paese Insegna Che le operazioni politiche Così chiamiamole Di laboratorio Per cui delle forze Politiche Si mettono insieme E fanno confluire All'interno Di un unico simbolo Più simboli Piccoli Diversi Raramente Ottire dei risultati Dall'asinello Ancora andando indietro Insomma Non ricordiamo Esperienze Di successo In questo senso E quindi Ha avuto Il demerito Di essere Di apparire Come un'operazione Non spontanea Ma in qualche modo Costruita Artificialmente E poi ci dice Che tra Il voto Amministrativo E il voto Politico C'è Insomma Non c'è Una correlazione Diretta Perché Il successo Che ha avuto Totti Alle amministrative O la sua lista Anche nel caso Dell'elezione Del sindaco Bucci Oltre che quelle Regionali Del 2020 Insomma Si è completamente Andato disperso Questo devo dire Totti Oggi è stato Molto onesto Nel riconoscere Il fallimento Dell'operazione Il che Comunque Apre Anche qualche Scenario di riflessione Sull'assetto Che la coalizione Centrovesta Vincente Che dovrebbe festeggiare Avrà anche In questa parte D'Italia Perché come vediamo Soprattutto All'interno Della Lega Insomma Non mi sembra Che il cammino Anche per Costruire E dividere I incarichi Di governo Per Giorgio Brilone All'interno Delle forze Centrodestra Sarà un cammino Particolarmente Semplice Non lo sarà Per niente Grazie Direttore Cosa titoli Domattina Ma Ti togliamo Da una parte Su Fratelli D'Italia Lo storico risultato Di essere Primo partito In Liguria L'altra parte Una cosa più nazionale Con l'addio di Letta E le difficoltà Di Salvini Perché sono quelli Che aprono Uno scenario Che avrà Delle conseguenze Per il paese Nelle prossime settimane Nei prossimi mesi Grazie al direttore Del decimo nono Grazie Buon lavoro Grazie Luca Baldeschi Con me Il senatore Luca Pirondini Buonasera Che effetto fa? E ancora fa strano Mi devo un po' abituare Un po' abituare Anche perché Oggettivamente Ci sono tante battaglie Che si fanno in politica Alcune hanno Una loro logica E si pensa Di poterle vincere Poi si possono anche perdere Come tutte le cose Nella vita Quando si va Sul campo del Real Madrid Si indossa la maglia Della Sampdoria Per esempio Tanto per citare Una squadra Che ci è cara E poi Vincere Sembra una cosa impossibile Ed era un po' questa La situazione Movimento 5 Stelle Pre elezioni Sì Devo dire che Un risultato Secondo me Straordinario Il nostro Io oggi ho detto Più volte Che considero Questo a livello nazionale Il risultato Più importante Nella storia Del Movimento 5 Stelle Non tanto numericamente Perché I due risultati Politici Precedenti Sono stati più importanti Di questo Un 25 Un 32 Ma questo 15 Per me è un valore Straordinario Perché arriva Era facile Prendere numeri più alti Quando non avevi avuto Ancora responsabilità Quando potevi accusare Gli altri Perché comunque Gli altri non potevano accusare te Ora Dopo essere stato al governo Dopo aver fatto cose Io credo anche importanti In città italiane Con dei sindaci Un 15% Penso che sia un numero Veramente importante Forse è il più importante Nella nostra storia Perché ci dà una prospettiva Da qua in avanti Che credo sia interessante Ci fermiamo un istante Tra poco ci colleghiamo Anche con Gianni Berrino Neo eletto Senatore come Pirondini Quindi vi incontrerete A Palazzo Madama Che si collegherà Con noi via Skype A tra poco Programma elettorale Che ha premiato Certamente Luca Pirondini Nel Movimento 5 Stelle Avete Diciamo Davvero Ho fatto Un exploit In realtà Vi consiglio La prossima volta Di investire di più Sui sondaggi Anche a livello locale Perché forse Bastava chiederlo Diciamo agli elettori L'avreste capito Prima Che c'era Qualche possibilità Di fare meglio Ora Naturalmente Bisogna capire Come li userete Questi voti Sicuramente Non sarete Neanche un po' Tentati Da fare altri governi Perché C'è una maggioranza chiara Quindi ci sarà un governo Di centrodestra Credo che qualche anno All'opposizione Sia utile Anche per ricostruire Un po' l'identità Del Movimento 5 Stelle Però In questo periodo Dovrete anche capire Cosa si fa da grandi Nel senso che Però stare solo All'opposizione Solo da soli E' ovvio Si prendono magari Un po' più di voti Però poi Non si incide Più di tanto Questo è un tema Che valia anche Per chi è andato Adesso al governo Assolutamente sì Sì sono d'accordo Però in realtà Qualche modo Noi un po' grandi Lo siamo stati Negli ultimi 5 anni Perché sicuramente Il Movimento 5 Stelle Con Giuseppe Conte In particolare Ha dovuto gestire Penso la situazione Più Più drammatica Della storia Degli ultimi decenni Del nostro Del nostro paese Credo che lo abbia fatto Bene Sicuramente Fare un'opposizione Intransigente Un'opposizione Che riporti in auge I valori I principi Del Movimento 5 Stelle Io penso che possa essere Un'opera buona Per il paese E credo che Giuseppe Conte Abbia già detto In modo molto chiaro Che il Movimento Non farà parte Di altri Governi Cosiddetti Di coalizione Di coalizione Di unità nazionale Raccoglitici Esatto Penso che Dalle elezioni Si debba imparare Dagli errori Si debba imparare E sono molto fiducioso Di questo nuovo corso Perché credo che Il rush finale Che abbiamo fatto Negli ultimi 20 giorni Di campagna elettorale Testemoniasse anche il fatto Che c'erano molte persone Che avevano probabilmente Voglia Di votare Il Movimento 5 Stelle Ma nell'anno precedente Probabilmente Il Movimento ha detto Troppe poche cose Troppo poco chiare E appena ha potuto Invece ridirle In modo chiaro E netto Credo che le persone Abbiano compreso Abbiano capito Allora Dovrebbe essere pronto Con noi Gianni Berrino Che è eletto al Senato Nel collegio di Ponente Berrino Buonasera Vediamo se riusciamo a vederla Eccolo qua Gianni Berrino Buonasera Allora Un po' ha ragione Pirondini Quando dice Noi abbiamo governato Negli ultimi anni E abbiamo tenuto Ora tocca per esempio Alla Meloni Che è sempre stata L'opposizione Che ha monetizzato Al massimo Questa Diciamo Questo posizionamento Però Voi bisogna vedere Cosa succede Quando si governa Cosa succede Secondo lei Berrino Beh innanzitutto Noi non siamo stati All'opposizione Per una convenienza elettorale Non siamo Siamo stati all'opposizione Solo perché Non ci troviamo d'accordo Su molti Degli aspetti E delle soluzioni Che il governo Che soprattutto I due governi Di Conte prima E poi il governo Draghi Ha trovato A proposta Nonostante però Soprattutto durante Il governo Draghi Abbiamo votato Molte delle leggi E delle proposte Che sono state portate In Parlamento Nell'interesse dell'Italia Che poi Conte Abbia saputo In un momento difficilissimo Governare benissimo Su questo Continuo E continuiamo ad avere Moltissimi dubbi E le conseguenze Le proviamo tutti i giorni Ancora oggi Di quello che è stato fatto Durante il governo Conte 1 Ma soprattutto Durante il governo Conte 2 Certamente Andare al governo In questo momento È difficile Lo sarebbe stato per tutti E quindi lo è anche per noi Noi ci andiamo però Con un'idea di Italia Molto diversa Da quella che è stata Negli ultimi Negli ultimi Quattro anni e mezzo Speriamo di riuscire Come dire A formare il governo Su questo non ho dubbi Ma a mettere in atto Le politiche Che abbiamo studiato E messo in campo Nel nostro programma Di coalizione Durante la campagna elettorale Io ne sono Ne sono certo Non pensi che tra i rischi Che ci sono Ci sia anche quello Di un po' Di nemici Interni ed esterni Abbiamo visto ieri La CNN titolare Che il governo Meloni Sarà quello più a destra Dopo Mussolini Che è oggettivamente Come dire Un modo per strumentalizzare Un po' Poi ognuno lo pensa Come vuole ovviamente Però c'è una certa differenza Storica Tra l'avvento del fascismo E la situazione attuale Almeno questo è il mio punto di vista C'è però sicuramente Anche un tema Di rapporti Con il mondo esterno Il mondo sindacale Il mondo del lavoro Il mondo dell'industria E anche certamente Un po' di inesperienza Che potrebbe essere pagata A caro prezzo In un momento così complicato Lei è fiducioso lo stesso? Io sono fiducioso Per quanto riguarda I rapporti Con il mondo sindacale Con il mondo del lavoro Con il mondo dell'industria Penso che faremo Il nostro dovere Ci dicevano le stesse cose Quando nel 2015 Se abbiamo conquistato La regione Liguria Eppure mi pare Che in questi sette anni I rapporti con questi mondi Siano andati bene Quindi io Su questo non ho problemi Certamente Sui nemici esterni Cioè su quelli europei Comandati però sempre Dal mondo interno Cioè dal centro-sinistra Italiano Ho molti dubbi Cioè io Mi vergognerei Anche se fossi di centro-sinistra Che la Wunderland Oppure altre Come dire Altre persone molto influenti Della comunità europea Cerchino di influenzare Le libere elezioni Democratiche In Italia E mi stupirei Come mi stupisco ora Anzi Io mi indigno Che i giornali stranieri Mettano in dubbio La capacità governativa Di chi gli italiani Hanno scelto Insomma Siamo sempre lì Se vince una parte Se vince una parte L'Europa è favorevole Se vince l'altra parte L'Europa è sfavorevole Abbiamo vissuta già nel 2011 Spero che questa cosa Non si ripeta Nel 2022 Perché sarebbe un affronto Agli italiani Ancora prima Che i partiti del centro-destra Che hanno vinto La regione Invece Che cosa Dobbiamo aspettarci Lei sarà rimpastato Come si dice In questi casi Nel senso che Andrà a Roma Quindi ovviamente Non sarà più assessore in regione Così come Ilaria Cavo C'è il tema della sanità Fratelli d'Italia Farà pesare In piazza De Ferrari Il nuovo peso politico Siete il primo partito In assoluto Anche in Liguria Anche sopra il partito democratico Non era mai successo Non era mai successo È una situazione politica Molto importante Io penso sempre Che poi i numeri Rimangano quelli che Ogni elezione Produce dei numeri E i numeri Anche da domani Anche da oggi Sono rimasti quelli Delle elezioni del 2020 Ciò non toglie Che secondo me Un minimo di Come dire Di Peso in più A quello che Forza Che Fratelli d'Italia dice Secondo me Sarà Sarà dovuto Sarà opportuno Più che dovuto Nonostante Manteneremo due assessorati Io su questo Non penso che Il nostro commissario regionale Matteo Rosso Faccia questioni Vedremo cosa Sarà dell'assessorato Alla sanità Noi abbiamo due Avevamo E avremo ancora due Assessori molto importanti Per le deleghe Il mio rimpasto Troverà una persona Che mi sostituirà In grado di sostituire E di continuare A far fare Bella figura Fratelli d'Italia Certamente Le nostre proposte Penso E spero Che verranno tenute In considerazione Perché saranno proposte Nell'interesse Della Liguria Alla luce Del nuovo Governo nazionale Va fatto L'assessore alla sanità Diverso da Toti Evidentemente Va fatto Ma non perché Non come Condanna A quello che Toti Ha fatto Come assessore alla sanità Su questo Voglio essere chiaro Va fatto Perché a mio parere È un assessorato Molto coinvolgente Che Deve Deve essere Come dire Un assessore alla sanità Deve essere 24 ore al giorno Ma soprattutto perché Deve avere Sopra di lui Ancora Il presidente Della regione Perché Noi tutti assessori Lavoriamo Per il benessere Dei cittadini Liguri Lavoriamo perché La giunta funzioni Sopra di noi C'è un presidente Che fa da regia È un assessorato alla sanità Toti ha scelto di farlo Presidente Toti Ha scelto di farlo In un momento Molto difficile Queste sono state Le motivazioni Per cui l'ha tenuto Oggi che L'emergenza sanitaria È finita Come ha sempre detto lui C'è anche l'opportunità Di avere un assessore Che si Che si Che abbia il tempo La voglia Gli argomenti E che comunque Segua le direttive Del presidente Per dare un nuovo voto Alla sanità ligure Nel nome di quella Rivoluzione sanitaria Che è stata messa in atto Già Già da tempo Penso che anche Al presidente Come ha sempre detto Convinca Quest'idea di avere Un assessore alla sanità Che si occupi per lui Fino a un certo punto Della sanità Grazie senatore Grazie Gianni Berrino Grazie Grazie per questo Collegamento Luca Pirondini Da oppositore In questo caso Per intanto Lei è al Consiglio Comunale Entrerà Fabio Ceraudo Al suo posto? Sì Direi che Questa è l'indicazione È il primo di non eletti Quindi sarà lui Il vostro rappresentante In Consiglio Comunale Come è cambiato il mondo Da un consigliere comunale A Genova A due parlamentari In Liguria In pochi mesi In una situazione Che non sembra Particolamente cambiata Invece Evidentemente là Sono anche Elezioni diverse Fa bene il centrodestra Rimpastando A trovare un assessore Alla sanità È questo il problema? Quello è un problema Sicuramente Credo che Mesi fa La Lega Già segnalò questa cosa Adesso la segnala Con forza Fratelli d'Italia Credo che ci sia Una correlazione Piuttosto stretta Invece tra i risultati Di ieri E cose che dovranno Necessariamente accadere Sia in Consiglio Comunale Sia nella Giunta Comunale Sia nella Giunta Regionale Perché è evidente Che i partiti Che hanno fatto Un espload più importante Adesso andranno In qualche modo A chiedere conto Sia a Bucci Che a Totti Di questo Quindi Questi movimenti Ci saranno Il fatto che lui Ha appoggiato Sia il terzo polo Che il centrodestra Avendo al suo interno Evidentemente Entrambe le anime In proporzioni diverse Però ce ne ha entrambe Qualche problemino Ho già sentito Ieri ne parlava L'avete sentito Nella nostra maratona In terrazza Ne parlava Per esempio Federico Bertorello Della Lega Credo che questo sia Un elemento Di forte tensione Nella maggioranza di Bucci È evidente Che avere Una maggioranza Composta da Persone che di fatto Diventano poi Avversari Durante le elezioni Politiche E poi ricompattarsi Appena finita le elezioni Politiche E risostenere Lo stesso sindaco È evidente che crea Delle forti tensioni E io credo che queste tensioni Siano sempre più evidenti E credo che sia Ancun problema Perché Nel caso della regione Un assessore alla sanità Che ad oggi è mancante Io credo che sia Un problema molto grande Considerato che il bilancio La regione al 70% È dedicato alla sanità Considerato che viviamo In una regione Nella quale per ottenere Degli esami E fare degli esami Occorrono molto spesso Molti mesi di attesa Quindi molto spesso Poi ci si rivolge Al privato Quindi io spero Che i partiti Oltre a continuare a dire Quelli che sostengono La stessa maggioranza Che c'è un problema Legato alla sanità In questa regione Poi ne diano Anche una conseguenza diretta Ci fermiamo un istante Tra poco altri ospiti Assieme a Luca Pirondini Per l'ultimissima parte Del nostro programma elettorale È arrivato a trovarci Anche Luca Pastorino Buonasera Congratulazioni onorevole Grazie Ce l'ha fatta Vincendo solo in nominale Ed è un miracolo O soltanto Il segno del buon lavoro E con un po' di impegno E buona volontà Si ottengono tutti i risultati No Cioè Mezzo miracolo L'unico della Liguria Però diciamo Ottenuto A seguito di un buon lavoro E una buona dose di umiltà Perché questa era Una battaglia molto molto complicata Dove partivamo Tanto Tanti indietro Infatti non è che ci fosse Come dicevo prima La fila Per occupare questo posto All'uninominale Liguria 3 Devo dire che sono Tanto devo ringraziare Tutti i miei amici Che sono tanti I miei volontari Che hanno guidato Il pulmino di Pastorino Che hanno volantinato Per tre settimane Non è come quello di Letta Quello No no funzionava Era simpatico Sul me era più simpatico Era un bel diesel Vecchio stile Era un Non me lo ricordo più Si era un diesel Era un Volkswagen Insomma Un pulmino di Pastorino Era comodo Si guidava anche bene L'ho guidato anche io Con mia moglie il cane Sono andati a fare tutta la Val Trevi E quindi è stato anche E poi ci sono stati C'è stato contributo Anche del Partito Democratico Delle altre forze politiche Insomma Quindi sono determinate Delle condizioni Per cui questa roba Si poteva fare E ci siamo riusciti E adesso Che cosa succede Nel centro-sinistra Ora lei è un indipendente È una posizione fantastica Questa ovviamente Perché tutto può succedere L'intorno Basta il suo risultato Però insomma È chiaro che lei adesso Andrà Alla Camera dei Deputati Tanto dove si pone Dove si iscrive Al gruppo misto Nel gruppo del PD No Adesso parlerò con il PD Non era mia intenzione Ad andare nel gruppo misto Ci sono già stato nel 2015 Quando sono uscito Dal Partito Democratico Insomma Non è piacevole Non è che non è piacevole Però insomma Io vorrei rinnovare Un po' il mio impegno politico Che poi è il senso La mia candidatura Rispetto a quel 2015 È passato Nella geologica Dal punto di vista politico E puntare a una ricomposizione Di un campo di centro-sinistra Che oggi Diciamo Qualche difficoltà È quello Sul quale Diciamo È la cosa sulla quale Mi vorrei impegnare Quindi Anche col PD Quindi Parlerò con Simone D'Angelo E Gli proporrò Il punto di entrare Nel gruppo del PD Magari come indipendente Come dice lei Ma comunque Cominciare a strutturare Un lavoro Che deve per forza Essere un lavoro Anche territoriale Non solo nazionale Con vista Elezioni regionali 2025 Adesso mi ha finito Questo Cioè Sì Però le cose Vanno preparate Quindi quando parlo Di ricomposizione Di un campo Parlo anche Ragionare per obiettivi E l'obiettivo Come dice lei Quello più immediato Salvo disastri È quello Delle elezioni regionali Diamo un'occhiata Fatemi vedere un cartello Sul plurinominare Pur che sia Senato Camera uguale Tanto per vedere Un po' come sono posizionati I partiti Perché volevo Mostrare a Pierondini Il fatto che Partito Democratico In Italia Intorno al 20% E Il Movimento 5 Stelle In Italia Intorno al 15% Fanno un grande risultato È chiaro Che le mele E le pere Non fanno le somme E si è visto In moltissime altre circostanze A Genova Avete preso il 4 Perché evidentemente Eravate spariti Dietro il resto Del centro-sinistra Però mi pare che adesso Oggettivamente Il Movimento 5 Stelle Non sia più Del tutto Un partito post-ideologico È un partito Che è abbastanza Schierato Su alcune posizioni Quando comunque Tu proponi Il reddito di cittadinanza Porti avanti Delle istanze sociali Sei un partito Progressista Dopodiché Con delle differenze Magari rispetto Al Partito Democratico Ma Io penso Che un governo Oggi si possa Anche immaginare Non si immagina oggi Perché non ci sono i numeri Ma in futuro Sì È possibile Ricominciare a lavorare Sul campo largo Per esempio Mi pare che Una birra Pirondini-Pastorino Potrebbe portare A delle No? A delle intese È un po' diverso Forse a livello nazionale Le intese potrebbero portare A tra me e lui Perché abbiamo giocato insieme Siamo stati compagni di squadra E quindi Partiremo avvantaggiati Anche se fate il tifo Per squadre molto diverse Molto diverse Sì Molto diverse E quindi questo potrebbe Avvantaggiarci Sono d'accordo Sul fatto che Pere e Mele Non si possano Sommare Io credo che Ogni elezione Abba la propria storia È evidente Che il Movimento 5 Stelle In questo momento Si è definito In quello che è Un campo progressista Perché è evidente Quando tu parli Di questioni molto Pratiche E questioni sociali Molto importanti Come La questione Della povertà Affrontandola Con il reddito Di cittadinanza La questione Del salario minimo Una presa di posizione netta Rispetto all'invio Delle armi o meno Nel conflitto Russia-Ucraina È chiaro che Stai dicendo delle cose Molto chiare Secondo me Questo è interessante Credo che tutto Sia possibile Laddove ci sia Un intento Di Obiettivi comuni La somma dei voti La somma dei simboli Non funziona L'abbiamo già visto Funziona A condividere Degli obiettivi E delle idee Da questo punto di vista Il futuro sicuramente Ci può Anche riservare Delle sorprese Io credo che A Genova L'impegno che abbiamo preso Due mesi fa Con i cittadini Lo stiamo portando avanti A Palazzo Tursi Collaboriamo Come minoranza Molto bene Il problema è stato Con la dirigenza nazionale Del Partito Democratico E questo credo sia Un dato di fatto Che Giuseppe Conte Ha detto In vado molto chiaro E Giuseppe Conte È un leader Totalmente credibile Totalmente in linea Con la storia del Movimento 5 Stelle Abbiamo forse detto Qualche altra volta Io avrei visto O meglio Un dibattista Nel durismo E purismo Grillino E Conte Invece lo vedo più Somiglia più a me Porta sempre La pochette Non so se È proprio un dato Per il vostro elettorato Sì In realtà sì Perché i voti Li ha presi Li avrei visti Molto bene insieme E credo anche Che questo possa succedere In futuro Per quanto mi riguarda Giuseppe Conte È insomma È una persona Che ha fatto solo bene Alla politica Perché credo Che abbia alzato Il livello Della discussione E questo Somma è importante Perché anche i toni E i modi Con cui si affrontano I problemi Credo che siano qualcosa Da centellinare Da controllare E credo che sia Il Presidente del Consiglio Che per me È meglio Ha fatto negli ultimi decenni Ha gestito una situazione Molto molto difficile Legata alla pandemia Ha realizzato Anche dal punto di vista Dallo sviluppo economico Cose molto importanti Perché il bonus 110% È quello che poi Ha portato l'Italia A avere il 6% di PIL C'è un numero Francamente straordinario E quindi è riuscito Da una parte A creare un nuovo lavoro Legato anche alla sostenibilità ambientale Dall'altra parte A mettere al centro Questioni sociali Come anche quella Della questione Del ripristino Di una cultura Della legalità Quando tu candidi Persone come Roberto Scarpinato Stai Dici Dando un messaggio Molto chiaro Cioè che il Movimento 5 Stelle Contrasta la mafia Con forza E questo è un messaggio Che su me È importante mandare In questo Giuseppe Conte Io ritengo Che sia stato il più bravo Di tutti In campagna elettorale Perché nel brevissimo tempo Che ha avuto a disposizione È riuscito a fare il risultato In percentuale Più importante Non in assoluto Chiaramente Ma in percentuale Lei se lo aspettava Pastorino Un esplodio così Del Movimento 5 Stelle E alla luce di questo risultato Il campo largo Non le interessa Un po' più di prima Insomma Non è stato forse un errore Da parte di tutti Vista anche la legge elettorale Alla fine dire no Voi no Sì Bonelli Fratoianni No Giuseppe Conte Io non so Se sia andata proprio così Nel senso che comunque La fase che ha preceduto La caduta del governo È stata una fase Oggettivamente poco lucida Da parte di tanti In quel momento Il Movimento 5 Stelle Era in un piano inclinato Per questo ce lo possiamo dire Quindi Conte Se poi ha recuperato Come diceva Luca Pirondini Poco fa Diciamo che era in una fase Di estrema difficoltà Forse determinata Anche da questo Campo largo Pre Cioè Del governo Draghi Che Insomma Nel quale si faceva Un po' fatica No Dal punto di vista dei temi Dal punto di vista Delle Delle prospettive Quindi poi La novità Diciamo è stata Il riposizionamento In un campo Molto indefinito Nel Movimento 5 Stelle Che storicamente Non era né di destra E di sinistra Giusto Ecco adesso invece Abbiamo fatto Avuto un posizionamento Con dei temi Che sono stati citati ora Che vanno in una direzione Molto chiara Che poi Diciamo dovrebbero essere Per tanti aspetti I temi caratteristici Una proposta progressista Di centro-sinistra Che appartiene Diciamo La mia No La mia area O comunque Al Partito Democratico Cosa che ha determinato Davanti Evidentemente A dei problemi Che il Partito Democratico Ha avuto In termini di percezione Cioè In termini di proposta In termini anche di comunicazione Se così vogliamo Quindi ha dato Uno spazio Secondo me Su quei temi lì Che potevano essere I nostri temi Che sono stati I nostri temi Magari declinati male Le ha segnati più che altro Quindi in questa prospettiva Io sono d'accordo È il motivo per cui dico Per esempio per me Rientrare nel Partito Democratico Vuol dire rientrare In un contenitore Che ha le idee chiare Dal punto di vista Dei temi Quindi un perimetro Di cose Che parte dalla questione sociale Declinata in un certo modo Che parte da quelli Che stanno peggio Come diceva Pirondini Allora quella roba lì Sì La conversione ecologica Dell'economia Sì Il salario minimo Tutte queste cose qua Insomma Sono temi Che sono molto Diciamo Sovrapponibili Che ora vivrete però Dall'opposizione Poi ne parleremo Intanto Sentiamo cosa ha detto oggi Giovanni Totti Un breve strato Della sua conferenza stampa Poi tra poco Nella parte finalissima Della trasmissione Avremo anche la possibilità Di sentire almeno La battuta Di Davide Falteri Che è riuscito a raggiungerci Lui del terzo polo Non è letto Però Secondo me Pastorino Come dire Qualcosa gli deve A Falteri Perché ha fatto un buon lavoro Per portare via voti Al centro-destra O almeno così si dice Nelle ricostruzioni Vediamo Giovanni Totti È ovvio che è un risultato Che non soddisfa Né a livello nazionale Né a livello regionale A livello nazionale Si rientra Nella maledizione Per cui Le somme di partiti Per quanto Coerenti Non riescono mai A sfondare Nel cuore dell'elettorato Ne abbiamo viste Di ogni Di ogni colore Genere E natura E ahimè La maledizione Della somma Si ripropone In generale Anche la lista regionale Evidentemente Sotto per forma Moltissimo Rispetto A quelle che sono I risultati Della lista Totti Alle scorse elezioni regionali Ma anche Rispetto a quelle Espressioni civiche Di centro-destra Che hanno fatto Il nerbo Della coalizione Nei passati Nei passati anni Vi è poi il tema Che sapete bene Della giunta regionale Perché Ilaria Che ringrazio Per lo straordinario Lavoro che ha fatto A mio fianco Per questi sette anni Che continuerà a fare A Roma Da parlamentare Gianni Berrino Sono i due assessori Che al momento Certamente Andranno a servire La regione Liguria Nel Parlamento Della Repubblica E che quindi Ovviamente Dovranno trovare I loro sostituti All'interno Della giunta All'interno Di questo Rimpasto Ovviamente Coglieremo L'occasione Per un Tagliando complessivo A due anni Dal mandato Ed avendone avanti Ancora tre Che saranno Molto impegnativi Il PNRR La revisione Del piano Sociosanitario Le infrastrutture Da costruire In questa regione Insomma Tre anni Decisivi Ed importanti Per la vita Della nostra regione Che meritano Un forte impegno Quindi Dal punto di vista Delle deleghe Dal punto di vista Dei nuovi ingressi Cercheremo Ovviamente Di rafforzare Il più possibile Non solo La qualità Amministrativa Della nostra giunta Ma anche La coesione Della nostra Coalizione E il coinvolgimento Più largo Possibile Di questo È arrivato a trovarci Davide Falteri Buonasera Buonasera a tutti Candidato Nell'Unionominale Alla Camera Genova 3 Insieme con Luca Pastorino Che ha vinto Questo collegio Diamo un'occhiata Al risultato Attraverso La nostra grafica È un Onorevole 8.8% Che è Superiore Al dato Del terzo polo A livello nazionale E appunto In maniera anche Non troppo verata Lo stesso Pastorino Dice Beh Ma non solo Pastorino Oggi è stato Al centro Anche della Discussione Della conferenza Stampa Di Totti Nel giustificare La sconfitta Di Casotti In questo In questo Collegio Falteri Ha fatto un lavoro Che Insomma Ha penalizzato Un po' Il voto Moderato Del centro-destra È andata così? Ma io Tanto non vorrei Resser ricordato Come la persona Che ha penalizzato Il voto Del centro-destra Perché in realtà Ci sono altre sorprese Una qua ce l'abbiamo Alla mia destra Perché hanno visto un incremento Chiaramente Di quello che sono state Le preferenze Quindi diciamo Che tutto l'insieme Ha portato a ridefinire Un disegno Sicuramente Questa percentuale Che è più alta Rispetto a quella nazionale È anche conseguente Al fatto Che sono reduci Da quelle che sono state Le elezioni Per il comune Nel giugno Di quest'anno E quindi tutto il seguito Elettorale Che mi ha sostenuto Allora Ha continuato A sostenermi Nel tempo E quindi Questo Ha portato Ad un risultato Più apprezzabile Del quale Comunque Sono molto contento Perché devo dire Che nemmeno io Mi aspettavo Un risultato Non aver mai fatto Una campagna elettorale A due in pochi mesi Come è l'esperienza Ma diciamo Adesso ne fa un'altra Si cambia in Francia Adesso le prossime Diciamo che Mi hanno tenuto in forma Quello sicuramente Sì Hanno aggiunto Qualche Notte in sonne Rispetto a quelle Che normalmente avevo Per occuparmi Comunque Delle mie cose Delle mie attività Però devo dire Che comunque Sono anche esperienze Stimolante Poi io cerco Di trarre Comunque Degli insegnamenti Da tutte le nuove Esperienze Che porto avanti Sicuramente Queste due esperienze Prima quella comunale In un modo Poi questa Per le politiche Nell'altro Mi porta a casa Un bagaglio di esperienze Che sicuramente Mi trova frutto È un fallimento L'esperienza del terzo polo Oppure no? Assolutamente no Perché È iniziato Comunque Si è concretizzato Subito dopo Il mese di agosto Quindi A fine agosto Quindi stiamo parlando Veramente di Di poco tempo Quindi ci è avuto Il tempo Tanto per far Metabolizzare Agli elettori Che esisteva Questo terzo polo Per convincerli Comunque Dalla bontà Di avere Un'alternativa Che si basasse Su quella Che era Una logica Riformista Che tratta Comunque Tematiche Che ad oggi Non sono Di così Facile Comunicazione Nei confronti Comunque Dell'elettorato Quindi Vanno Reinterpretati In una chiave Sicuramente Più capibile Quindi per il poco tempo E per le tematiche Che sono state trattate Devo dire che il risultato È stato davvero notevole Di questo Siamo contenti Ma siamo contenti Anche dell'esperienza Che come ha detto Oggi Calenda Ci ospichiamo Che vada avanti In maniera In maniera Sinergica Siamo oltre il tempo massimo Vi faccio fare Soltanto una battuta a testa Una in più a Pirondini Perché volevo segnalare Che Pirondini Che Luigi Di Maio Il vostro ex capo politico Ha fatto un partito Assieme a Tabacci Che appunto Gli ha prestato il simbolo E hanno fatto una lista Insieme Di Maio non è entrato Ma Tabacci sì Non so se Vuole commentare Questo risultato Tabacci evidentemente È stato Abbastanza sorridere Più attento A scegliersi il collegio Io dico solo una cosa Abbiamo uno storico ormai Noi siamo una forza politica Molto giovane Però uno storico l'abbiamo Tutti quelli che escono Dal Movimento 5 Stelle Convinti di essere diventati Di Novelli De Gasperi Fanno sempre una brutta fine Esatto Politica Naturalmente Non li sotterrano Sotto diciamo Ultimissima battuta a testa Un flash Perché appunto Abbiamo dedicato Qualche minuto in più Ma ci stava stasera Sarete tutti all'opposizione Falteri non in Parlamento Voi sì Come la gestirete Questa opposizione Perché sulla carta Ci sono delle cose Un po' particolari Cioè potrebbe esserci Una riforma del reddito Cittadinanza E quindi i vostri voti Ok Però lo riformano Perché non avete vinto Le elezioni Magari una riforma Costituzionale Con l'autonomia E il presidenzialismo Potrebbero essere Dei tentativi Vedremo poi bene Le maggioranze Che si creeranno Nel Parlamento Come affronterete Questi grandi temi Lo chiedo Con un flash A tutti e tre Ma per quanto ci riguarda L'affronteremo Col massimo Della serietà Tentando di essere Assolutamente intransigenti Rispetto a quelli Che sono i nostri valori Le nostre Le nostre visioni Di volta in volta Vedremo Quale sarà la cosa La cosa giusta da fare Io sul fatto Che vanno a toccare Il reddito Cittadinanza Ho molti molti dubbi Anche perché Vedo che Fratelli Italia Negli ultimi 20 giorni Ha cambiato già Quattro volte opinione Dice Lo togliamo Non lo togliamo Ne togliamo un pezzetto Poi vediamo Io credo che Faranno molta fatica Sia più facile Raccontarlo in campagna elettorale Ma sia molto più difficile Poi andare a levare qualcosa A chi non ha più niente Volteri? Io credo che L'abbiamo già dimostrato Nelle comunali scorse Noi ci poniamo Dalla parte Di chi Vuole mettere a terra Concretamente Dei progetti Mappando i processi Quindi sicuramente Con la stessa serietà E determinazione Cercheremo di affrontare Le tematiche Che la maggioranza Andrà a sviluppare In Parlamento Con Un'attenzione particolare A quelli che poi Sono le ricadute Sull'elettorato Sul nostro paese Che la mette Sul funzionamento Della nostra economia Pastorino stessa domanda Da uomo di sinistra È spaventato Dalla destra al potere? Spaventato no Però un po' preoccupato Sì Per le cose che dicono Poi in effetti Si correggono Perché questo È anche un tema Un altro tema Su cui non hanno detti Tutti i colori È la famosa Flat tax Uno dei tre partiti Uno dei tre partiti Però posso garantire Che tutta la delega fiscale E il fratello d'Italia Proponeva delle soluzioni Come l'estensione Del regime dei forfettari A retti Fino a 150 mila euro Lei capisce bene Che le differenze Tra uno che percepisce 150 mila euro E uno Che guadagna 1200 euro di pensione al mese Ci sono Quindi ci vuole Un po' di equilibrio Nelle cose Quindi l'opposizione Sarà intransigente Sui temi Poi Italia Viva Sulla rete di cittadinanza Insomma Non so se Se è proprio Dall'idea mia E di Luca Pirondini Però Dove essere In una posizione Determinata Ma anche corretta Ma comunque Decisa sui temi Che abbiamo portato In campagna elettorale Questo Io mi sento di garantirlo Grazie mille a tutti Mi raccomando Fate squadra per noi In ogni caso Perché abbiamo tanti temi Importanti Che dobbiamo portare avanti Sarete sempre I nostri gratitissimi ospiti Grazie Pirondini Falteri Grazie Complimenti a tutti Perché a vostro modo Avete dato Il massimo E avete ottenuto Quello che Insomma Era possibile ottenere Forse In qualche caso Anche un pizzico di più Quindi complimenti davvero Noi vi salutiamo E ci vediamo Lunedì prossimo Con una nuova puntata Buona serata